Ciao a tutti, oggi ultimo video in cui andremo a vedere quali sono le hit potenziali di quest'estate e poi a settembre ci sarà il video finale in cui vedremo qual è stata la hit dell'estate secondo voi, secondo me e la hit ufficiale invece, il tormentone dell'estate 2019. E allora siete pronti? Iniziamo! Prima di iniziare però vi volevo dire che vi lascio innanzitutto i link in descrizione per vedere le altre due parti poi volevo ringraziare gli stessi che ho ringraziato settimana scorsa e che mi hanno suggerito le hit che comunque andremo a vedere anche oggi e che sono Lorenzo Martino, Fabio Pasquali, Andrew Fox e Joan Muglie. Partiamo con la prima hit di oggi che è di Baby K e si chiama Playa, eccola qui! La prossima hit invece è di un duo che piace molto alle ragazzine sto parlando di Benji e Fede con la loro canzone che si chiama Dove e Quando, eccola qui! Dimmi dove e quando? Da stasera non arrivo in ritardo! Stile molto latineggiante come d'altronde un po' tutte le loro canzoni. La prossima hit invece è una canzone un po' amaranza, Jack Mazzoni con Ibiza. Il video devo dire che è molto bello, comunque anche lo stile di Jack Mazzoni è molto amaranza come sempre. La prossima hit invece è di Irama e si chiama Arrogante, eccola qui! Dopo il successo dell'anno scorso Nera ritorna Irama con questa sua nuova potenziale hit. Vedremo se sarà quest'anno la hit, il tormentone dell'estate 2019. La prossima invece è di J-Lo che si chiama Alive. Molto electro-ADM, ricordo un po' quello stile lì. Questa era la ultima hit che vi propongo di questa rassegna, di queste tre parti che abbiamo visto insieme. Ci sono però altre hit che non vi ho fatto vedere per questioni di copyright ma che vi dico adesso velocemente a voce. Ovvero Bene, in questi tre video quindi abbiamo visto quali sono le potenziali hit dell'estate 2019. Fatemi sapere qual è secondo voi la hit dell'estate, vi dirò poi a settembre appunto qual è stata secondo voi la hit dell'estate secondo me e poi vedremo invece qual è stata ufficialmente la hit, il tormentone di quest'estate 2019. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo mercoledì con lo spazio Pillole anni 90-2000 dove vi parlerò delle differenze che c'erano tra Radio 105, Radio DJ e Rin negli anni 90 e 2000 oppure venerdì con lo spazio DJ Piazza in The Mix dove mixerò 5 canzoni dance del 1992 in 5 minuti. Alla prossima!